Il romanzo che stiamo per raccontare è un romanzo credo difficile da raccontare, al di là proprio della storia, che è già difficile di per sé perché è una storia molto carsica. Il romanzo si intitola con una parola sola, è una parola pesante, una parola che ci arriva proprio dentro e questa parola è fedeltà. Marco Missiroli, benvenuto nel posto delle parole. Grazie mille. Eccoci qua insieme con Marco Missiroli, autore del romanzo Fedeltà, edizione in Audi, a raccontare la sua ultima scrittura. Però per entrare subito a respirare quest'aria di questa storia io vorrei proprio partire, Marco Missiroli, dall'immagine di copertina, ovvero da questa luce e da queste ombre. Poco fa, poco fa noi abbiamo parlato, a proposito di un festival che ci sarà a Torino nei prossimi giorni per un incontro con Massimo Cacciari, di realtà riflessa. Ecco, la realtà riflessa che la visione non è mai chiara del tutto, sia del passato di cui conserviamo frammenti e del futuro di cui non abbiamo che presagi. E ogni dimensione del tempo si riflette una sull'altra in continuazione, l'una specchio dell'altra, non possiamo che considerare tutto questo come un enigma. Forse anche questo, Marco Missiroli, la fedeltà? Beh, credo di sì, credo che le luci e le ombre facciano parte non solo della fedeltà o dell'infedeltà di ognuno di noi, ma facciano parte del movimento che ognuno di noi affronta ogni volta che si chiede quanto si è fedele a se stessi e quanto si è fedele all'altro. Quindi succede qualcosa, una lotta intestina, clandestina, interiormente, che ci pone davanti una tentazione che poi non è mai una tentazione quella di tradire, ma è quella di conoscere se stessi. Il libro indaga queste luci che poi le schiarano segretamente dentro di noi e le ombre che invece si vedono fuori, che sono quelle un po' del senso di colpa, quella della bruttezza che la società ci vuole dare quando accadono i tradimenti, oppure quelli che sono i toni di grigi, quindi né luci né ombre che ci accompagnano ogni volta che non riusciamo a prendere una decisione chiara. Una decisione chiara, una decisione precisa, perché qui non è chiaro del tutto, perché d'altra parte è giocato veramente con un registro straordinariamente equilibrato questo romanzo, non guarda dal buco della serratura, ma guarda dentro di noi, guarda dentro l'animo dei personaggi e noi non possiamo che rifletterci, parlavo poco fa di specchi, non possiamo che rifletterci nei comportamenti di questi personaggi, perché sono molto veri, perché sono personaggi che in ogni modo sbagliano, ma proprio in esergo Marco Miseroli mette una frase di Philip Proth ecco come sappiamo di essere vivi, sbagliando. L'errore è quello che ci rende umani, quello che ci rende vivi, perché ci fa conoscere sfere di noi stessi e del mondo che non conoscevamo prima, se rimaniamo in contesti di confort è difficile che si facciano gravi errori, gravi errori si fanno quando ci inoltriamo in territori sconosciuti, per cui l'esergo di Philip Proth ci mostra anche come molto spesso legati ai nostri sbagli, a quelli che gli altri chiamano sbagli, in verità c'è una forma di vitalità assoluta, di vita assoluta, fedeltà indaga proprio questo, quando noi entriamo in un mondo nuovo dove tremiamo, dove siamo indecisi, dove probabilmente qualcosa che sta accadendo si sta cambiando e non sappiamo dirci se è una cosa buona o una cosa sbagliata, non è ne buona o ne sbagliata, è semplicemente vita. È semplicemente vita, è vita che palpita e il verbo palpitare in questo romanzo palpita sia per Carlo sia per Margherita questa coppia che non è una coppia in crisi, non è una coppia in crisi, lo dobbiamo sottolineare, ma allora verrebbe da dire ma allora perché, perché se la coppia non è in crisi c'è questo gioco, c'è questa intesa che può diventare, che può mettersi in una china pericolosa, ovviamente non riveliamo come va a finire questa storia, ma riveliamo senza dubbio il tormento da una parte e l'estasi dall'altra, anzi né tormento da una parte né estasi dall'altra, è un tutt'uno. Beh sì, è un tutt'uno perché non è detto che uno debba essere in crisi con la propria moglie, fidanzato, fidanzata, per riuscire, marito, per riuscire a dover mettere in crisi totalmente la relazione o addirittura non dover mai tradire quella parte di purezza che credi di avere. Uno può esplorare parti di sé nuove, parti del mondo nuove, anche se sta bene in una felicità, una persona può avere più felicità contemporanea ed è qui che nasce il conflitto secondo le norme della società, in verità esplorare significa in qualche maniera rivoluzionare, rivoluzione, avventura, sono tutte parole abusate che in verità servono per far capire quanto ci sia vita e esistenza in contesti che non conosciamo prima e che conosciamo improvvisamente, anche grazie ai tradimenti, anche grazie a felicità carsiche, sotterranee, fragili se vogliamo. E questo è un libro che parla di fragilità, parla di fragilità e la fragilità non è in questi personaggi solamente, la fragilità, torno alle immagini dello specchio, riflette semplicemente la nostra vita, la nostra vita e se ci illudiamo di non essere fragili non siamo sinceri con noi stessi, ma torniamo, torniamo a Margherita e Carlo, tra Margherita e Carlo viene ad inserirsi in prima battuta una giovane ragazza, Sofia, perché Carlo ha un'intesa con Sofia, ma poi questa intesa prende una certa piega e anche Margherita ha al suo percorso, ma il tradimento da una parte e il tradimento dall'altra o l'infedeltà, chiamiamola così, forse è una parola meno grave, ecco, non è mai compiuto del tutto, ecco, è questa la riflessione che facciamo leggendo questo libro, ecco, c'è un pensiero comunque, non dico che ci sia, Marco Missiroli, qualcosa che frena, no, un senso di colpa o qualcos'altro, ma è qualche cosa, la riflessione continua, perché non è solamente, diciamocelo pure, non è solamente un fatto fisico e lì si ferma. Ma assolutamente non è un fatto fisico, non è un fatto erotico e basta, è un fatto di conoscenza, conoscere, esplorare, vedersi, vedere e quindi questo non può fermarsi, è semplicemente un'attrazione, consumare un'attrazione e poi finirla lì e tornare a casa pagati o quel senso di colpa, è un moto continuo che ci permette di esplorare noi stessi anche quando sembra che abbiamo una forma definita, il matrimonio che cos'è? Per teoricamente una forma definita, una coppia stabile è una forma definita, avere un figlio è anche una forma definita che cambia nel tempo, ma che ci definisce come ruoli, a volte noi dentro i ruoli vogliamo ritagliarci degli altri ruoli che non possono essere ritagliabili ed è qui che quello che chiamano infedeltà, tradimento agisce, apre nuove sacche che fondamentalmente prima non erano mai mai state aperte e questo è fondamentalmente, possiamo dire, quello che il moto ha luogo, cioè verso qualcosa che si stupisce, mi interessa molto il concetto di stupore perché è un concetto che rompe qualcosa di precedentemente insediato e che lo rende finalmente nuovo. E lo stupore arriva non solamente per quello che succede nei vari tempi che Marco Miseroli ci propone in questa storia, ma lo stupore l'abbiamo anche in un libro che è fatto anche di libri, è fatto soprattutto di un altro libro anche perché Sweet Francese, ecco Sweet Francese è un romanzo che ben sattaglia questa storia, Irene Nemirovsky, ecco in che modo, in che modo quella storia attraversa fedeltà? Beh Sweet Francese è un libro scritto dalla Nemirovsky incompiuto, nel senso che poi lei è stata deportata nel campo di concentramento e per cui non ha potuto finirlo e questo è una sorta di richiamo alla vita mancato ma anche un richiamo eterno, come quando una cosa non viene finita rimane ossessiva. La Nemirovsky ha prodotto quello che è un inno all'esistenza che non finisce mai e volevo che fedeltà fosse esattamente questo inno all'esistenza meno urlato, quotidiano, carsico, ma che si muoveva costantemente. Ecco perché Nemirovsky e questo libro provoca e porta esattamente a questa specie di anima muscolare in continua evoluzione. Sarà solamente una questione di parole ma quando si parla di fedeltà bisogna usare le parole giuste perché le parole raccontano molto anche se a volte sono i silenzi come viene scritto in questo romanzo ma c'è una parola importante, una parola che forse è una parola forse che è un po' un compromesso ed è la parola incomprensione. Beh è una parola incomprensione, è una parola a volte magica perché uno dice tu non mi capisci più, in verità non è che non capisce più quella persona lì, non ha più le coordinate per capirla perché l'altra si è già evoluta e quindi è una forma egoistica dire io non ti capisco è per dire che lui non capisce l'altro ma l'altro magari si è evoluto, è diventato più felice, è diventato più completo, sfugge a quella che era la forma predefinita e non riesce più a essere diciamo accalappiato come precedentemente veniva accalappiato e quindi io non ti capisco significa che tu sei cambiato e io forse non ho più quelle coordinate magari ci siamo evoluti tutte e due. Ci si evolve sia nella felicità che nel momento di tensione e la felicità rende anche tutto più belle. A proposito di felicità mi viene in mente Marco Misiroli quando Carlo è con Margherita e riflette, riflette su una cosa importante e dice a se stesso sempre che io lo ricordi bene, bene eri così bella quando eri felice. Sì nel senso che la bellezza in questo caso ovviamente non è estetica ma lui si ricorda nei momenti principali quando sua moglie lo è stato veramente e lo è stata nella maniera quasi dichiarata, ora non la ritrova più perché c'è un malinteso del tradimento che incombe su di loro e quindi vorrebbe ritrovare quella posa, quel movimento tra due, quasi quella postura matrimoniale e quindi quei tempi felici. La memoria in questo caso gioca un ruolo fondamentale. E quando si parla di fedeltà c'è un'altra parola che fa rima con fedeltà e si tira sempre dentro questa parola anche in questo romanzo ed è la parola verità ed è una parola rischiosissima, difficile, quasi incomprensibile. Ma la verità in questo romanzo Marco Misiroli, la verità, leggo qui una sottolineatura, la verità è ciò che ricordiamo. Ecco, quindi il ricordo è qualche cosa che forse ci costruiamo a nostro piacimento? Beh no, è quello che ci ricordiamo, ognuno di noi ha il diritto di ricordarsi ciò che vuole della vita che ha vissuto e di conseguenza può fare della propria trama ciò che vuole e nessuno può confutargliela. Questo è un diritto alla narrazione personale, è un diritto alla vita personale. La verità è che ciò che si ricorda viene da Julian Barras, il senso di una fine ed è proprio questo diritto a vivere la vita secondo ciò che viviamo e ciò che ricordiamo. Ma qui questa storia di Carlo e Margherita con quell'aria di giovinezza, quell'aria di giovinezza straordinaria che porta Sofia, perché Sofia è veramente, lo dice forse il nome stesso, Sofia, ecco, ha qualche cosa anche di profetico nella scelta di questo nome, perché è un nome che non è che è stato scelto così a caso, le si attaglia molto bene nei confronti di questa storia. Beh sì, è un nome che porta quasi quasi a una specie di evoluzione, poi un'involuzione, una verità e poi la non mancata verità, questa ragazza che decide di vivere a Milano una questione personale che non possiamo rivelare adesso, ma che poi a un certo punto decide di tornare a Rimini come conseguenza e a vivere la propria questione personale. Quindi è una specie di libro aperto e poi libro chiuso, di storia fatta e poi di storia chiusa improvvisamente. È il perno nascosto del romanzo. Il perno nascosto, ma anche c'è una bellissima definizione di questa giovane ragazza Sofia, che era una ragazza per così dire senza talento, ma era un tempio in costruzione. Ecco, in questa definizione, peraltro molto bella di questa giovane ragazza, io trovo una definizione del suo animo con un estremo rispetto, un'estrema eleganza inserita proprio in questa storia che poteva essere altro, invece questa ragazza che è il motivo di quella famosa incomprensione sia un tempio in costruzione. Per costruire che cosa? Beh, è una vita, lo siamo tutti in costruzione, ci vogliono tempi che sono poi definiti, già costruiti, che vadano avanti. In verità a volte la bellezza di una persona è proprio perché è sempre in costruzione. Sofia è la motivazione di questo tempio in divenire ed è il tempio in divenire. Per cui a volte la bellezza è proprio nella costruzione e non solamente nel lavoro finito. Sofia era l'altra felicità, questa giovane studentessa, l'altra felicità di quest'uomo Carlo. Ma se Margherita, la moglie, gli dava gioia, una gioia magnifica, anche Sofia gli dava gioia, una gioia magnifica. E allora come poteva essere questo binario se tutte e due queste donne, in questa continua esplorazione sentimentale, creavano gioia? Ecco, qui c'è veramente, forse si arriva a un momento, ovviamente senza rivelare il corso della storia, un momento in cui ci potrebbe essere l'ebbrezza della scelta. Ma se avrei fatto un altro tipo di romanzo se ci fosse stata l'ebbrezza della scelta, in verità lui capisce che c'è la coesistenza della scelta. Una felicità per la moglie, l'altra felicità per Sofia e questo qui la mette nei guai come mette nei guai quando c'è troppa vita. Ed è lì che il romanzo indaga. Perché a un certo punto c'è una frase molto importante a proposito proprio del lavoro, del lavoro un po' precario di Carlo. E se ricordo bene, a un certo punto dice accettate la vostra condizione, tutto qui. Io questa frase non l'ho pensata solamente alla condizione lavorativa, come voleva dire il padre, una condizione lavorativa anche precaria, ma soprattutto quasi con effetto carsico, riprendo questa parola che ha detto poco fa Marco Missiroli, nei confronti loro e della loro incomprensione. Accettate la vostra condizione, perché noi abbiamo parlato di Carlo, ma anche Margherita ha la sua incomprensione. Beh sì, certamente, anzi è una comprensione molto più potente, quella che viene instillata da un dubbio e da una questione matrimoniale importante. Per cui incomprensione è fondamentalmente una questione di vita che viene riproposta, cioè non vogliono che tutto si fermi, non vogliono che il matrimonio definisca le loro vite, non vogliono che la staticità della fedeltà, che è una cosa straordinaria, ma dopo un po' può essere davvero controversa, definisca le loro vite. Per cui accettano il gioco di questa storia, il gioco di questa storia è rimettere e rifare un giro di zostra potentissimo, come avviene molto spesso nelle persone normali, solo che non viene mai dichiarato e questa volta è il momento di dichiararlo. Ora sentiva di aver oltrepassato il cliché del tradimento, la necessità fisiologica del tradimento, l'evasione del tradimento, la curiosità del tradimento, la risposta a una insoddisfazione che il tradimento rivelava. E se tradire per lui fosse stato il modo per tornare a essere fedele a Margherita? Questa è una domanda fondante perché, torniamo sulle parole che ha detto in apertura di conversazione Marco Missiroli, la fedeltà, l'infedeltà come scoperta, come esplorazione. Sì, è fondamentale perché se il tradimento fosse davvero un modo per tornare nella parte che stiamo tradendo, e questa è un po' la domanda capitale di tutto il libro, a cui non voglio aggiungere più niente perché credo che sia stato davvero, e su questo punto interrogativo, costruita tutta la storia. Aggiungere qualsiasi cosa la inflazionerebbe totalmente. E quanto invece, a proposito di racconto, di domande, delle varie interviste, Marco Missiroli, di questo romanzo si dice, perché a volte raccontare i romanzi, soprattutto succede nelle interviste, nelle conversazioni, c'è sempre un po' il pericolo del voler raccontare, ma un romanzo penso che si debba raccontare per accenni, in particolar modo questo, è forse anche una forma di rispetto dell'autore e della storia. Sì, credo di sì, credo che sia una forma di rispetto e una forma anche di quotidianità, noi non esplicitiamo tutto e credo che questo qui sia, anche come abbiamo fatto oggi in trasmissione, sia un modo giusto per tracciare dei punti che hanno definito delle coordinate già buone e sufficienti di un romanzo e che sta al lettore appunto concludere la questione. Ma torniamoci dal romanzo per qualche istante, chiudendo la nostra conversazione Marco Missiroli, oggi la parola fedeltà, noi sappiamo ancora qual è il suo significato? Ma non credo, credo che sappiamo tanti significati perché ormai è diventato, le parole sono fondamentali, sono importantissime, ma nella società, soprattutto in questa società, nella società però in cui viviamo cambia un aspetto ogni giorno, come fossero un moto continuo perché stiamo perdendo un po' quelle che sono le coordinate delle parole antiche, dei loro significati, fedeltà è una di quelle parole sibilline, sensibili che dimostrano quanto siamo in verità attaccati a un'epoca di infedeltà e forse il gioco sta qui, capire e fermare una parola nel momento giusto. L'infedeltà noi la pensiamo sempre rivolta a qualcun altro, ma l'infedeltà forse è maggiore e non vorrei andare in un territorio psicanalitico e l'infedeltà verso noi stessi e forse questa è la mancanza più grave. Sì, ed è appunto quella su cui indaga il romanzo e ancora una volta mi sento di dire che sta alle storie che leggiamo e che vogliamo raccontare, produrre punti interrogativi e non sta a noi dare risposte psicanalitiche che andrebbero a sconfinare in un altro campo. Prima di salutarci, Marco Missioli, qual è il libro invece che fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libro di Romano Montroni sul mestiere di libraio, che è una dimensione che mi manca tantissimo, la libreria, gli librai di una volta, il fatto che comunque i librai riescano a resistere a questo tempo difficile di altre scelte editoriali, difficile di editoria e quindi mi sono fatto un salto in un tempo di editoria in cui si era molto felice, le cose avvenivano con più fluidità, quasi come per darmi la forza di vedere nei librai una forza anche in questo momento, sono le figure più importanti che abbiamo in questo momento. Romano Montroni, straordinaria figura di libraio, il libraio per eccellenza, credo che sia il presidente del centro per il libro e per la lettura, il CEPEL, che è una realtà veramente molto molto importante. Grazie ancora Marco Missioli del tempo dedicato, buon lavoro. Grazie infinite. Grazie a tutti.